La cestistica a San Savero è a lavoro da nove giorni per preparare il prossimo campionato di Serie B di Palacanestro. Terza stagione consecutiva tra i cadetti per i neri, guidati quest'anno da coach Giorgio Salvemi. Il roster è stato profondamente rinnovato. Leonardo Ciribeni è l'unico superstia della passata stagione, poi a parte Ivan Scarponi, tornato a San Savero dopo la parentesi di Cerignola, tutti volti nuovi. Emidio Di Donato, Riccardo Bottioni, Riccardo Malagoli, Max Rezzano e Antonio Smorto. E elementi di qualità ai quali vanno ad aggiungersi gli under Ventrone, Coppola, Iannelli e Mecci. La presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico è fissata per sabato 9 settembre al Palacastellana. Stasera si parte invece con gli amichevoli e con un avversario di rilievo, Brindisi, campionato di Serie A presso il Palapoli di Molfetta, pala 2 ore 17.30. Si prosegue a San Savero il 6 settembre con Chieti, Cisilver e tre giorni più tardi, in occasione della presentazione ufficiale del roster contro la neopromossa in A2, Cuore Napoli. Poi sempre al Palafalcone e Borsellino il 13 settembre Manfredonia, Cisilver e il 16 settembre Ortona Serie B. Infine il 20 settembre vasto Cisilver a San Savero e Salerno Serie B, in trasferta il 23 settembre. Il 1 ottobre scatta infine il campionato con l'esordio casalingo contro Nardò.